... Roberto! Amore! Ma che fai? Giro per casa, so sveglio dai quattro. I quattro? Sì, è un'insonnia terribile. C'ho troppi pensieri, troppi, troppi, troppi. Ma pensieri di che? Il lavoro, la famiglia. E per quello che ci sta, in famiglia. A che ora sei tornato ieri sera? A che ora sono tornato? Saranno state le undici, undici e mezza. Ma com'è possibile? Io ho spento la televisione, che era mezzanotte. Ma che ti sei maniata l'aglio, te? Lasciamo perdere, vai. E così che è meglio. Però stasera ricorda che abbiamo la riunione di condominio alle otto a casa dell'avvocato Fabri. Ma che sei matta? Io alle otto sto ancora in palestra a fagli addominali. Ma roba, è importante. C'è te. Tu sei la regina della casa. Guarda quanto sei bella. Ma io oggi dove andrei senza di te? Per stracci. Non infierire. Lo sai quanto mi pesa lavorare nella gioielleria di tuo padre? E la mia cruccia. Seata a capanni. Si dice cruccio, cruccio! E io che ho detto? Papà, che ci parti tu a scuola con la macchina? Tutte e tre. Ma ci entreranno? Più vi guardo e più mi domando come siete uscite fuori così. Mamma in crescina, papà in fusto. Saranno tutte ste ovette che vi maniate. Sono buone, papà. Ma voi no, ci avete tre culi da paura. Che facevi in giro? Sei troppo cattivo, papà, troppo cattivo. Che te sei nascosta dentro lo zaino e ti maridozi? Fatti fatti tua. Ciao, papà. Dai, diamante, rubina, coralla, sbrigatevi che fate tardi. Dai, andiamo, su, su, su. Mi scusi, eh, c'era un po' di traffico. Non ci preoccupi. Roberto. Ciao, papà. Ma che vuoi e va? Marcella. Marcella, come stai? Mi difendo. Ma chi è questo? Mio figlio. È il figlio di Italo. Sì, sono il figlio di Italo. Ciao, ma oggi faccio tardi perché c'ho basket. Catroia. Ma come mai sti ragazzini stanno sempre incazzati? Boh, ma la sapete. E invece noi? Ti ricordi, risate che ci siamo fatti? Fregene. Estate 73-74, ho la conchiglia. Ah, Robben, non mi ci fa pensare. Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battiglia. Al jukebox, pazza idea di fatti, bravo, pazza idea di far l'amore con te. Eri tenerissimo. Sì, ti ricordi che buscio di culo che t'ho fatto? Buongiorno, madre. Buongiorno. Buongiorno. Ma chi è, madre Batista? Ma no, è il suo Orma Falda, l'insegnante d'italiano. Ma come d'italiano? Dice buongiorno. Ma chi insegna il buongiorci spadano? No, valla a sapere. La riccella.